buon cavodanno oggi ti porto a fare un bel giretto dell'isola di terseira sai che facciamo prendiamo la provinciale principale quella che taglia l'isola qui d'altares ce ne andiamo verso angra e poi giriamo a destra e ce ne andiamo a esplorare terra cia e poi su in cima alla montagna per vedere la vista più spettacolare che c'è si va Musica 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 Grazie a tutti. La montagna di Serreta è lì in cima che voglio andare. Grazie a tutti. Andiamo su in cima. Bye. 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 Non ho fatto countdown, non ho fatto conti alla rovescia, non ho stappato nessuna bottiglia, non ho fatto nessun cin cin, ma ero molto contento, molto contento perché ero in sintonia con me, avevo tutto quello che mi serviva e secondo me accontentarsi di tutto quello che uno riesce ad avere nella vita, non è facile, ma quando ci riesci sei contento davvero. Ciao